Ciao a tutti e dopo un mese finalmente sono qui a dirvi, a mostrarvi i risultati del nostro trading sportivo Vi ricordo qua sotto il link al canale Telegram dove trovate tutti i nostri movimenti sul trading sportivo Io e Marco, l'altro ragazzo che con me sta gestendo questo nuovo progetto Abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro Delle percentuali che non penso siano ripetibili nei prossimi mesi Quindi se vi siete persi queste percentuali ragazzi mi dispiace ma dovevate iscrivervi un po' prima Vi lascio qua sotto il link quindi se il prossimo mese facciamo le stesse percentuali non ditemi che non ve l'avevo detto Come sempre vi ricordo siamo partiti con 91,70€ per quale motivo 91,70€ e non 100€ il numero tondo? Perché avevamo quello sul conto, non ci interessava avere 100€ precisi sul conto Ma io penso che iniziare con una cifra tra virgolette così bassa sia un po' il modo per far interagire più pubblico possibile Per prendere più pubblico possibile, anche un ragazzo che ha 100€ da parte può provarlo tranquillamente Se avessimo iniziato con 1000-2000€ sicuramente nessuno avrebbe intrapreso il nostro percorso insieme a noi Quindi voi siete liberissimi di metterci 1000-2000€ e avrete sicuramente ottenuto dei risultati decisamente migliori rispetto ai nostri I nostri sono piccolissimi, vedrete, ma le percentuali sono veramente grandi E se fossero state rapportate a cifre più alte, probabilmente, anzi sicuramente, i guadagni sarebbero stati veramente, veramente elevati Ecco, come al solito, appena registro, mi si spegne la telecamera Stavo dicendo, abbiamo fatto delle percentuali enormi Sicuramente non sono cifre enormi, perché partendo con 100€ non vi potete aspettare chissà cosa Ed è normale questo, ma le percentuali sono veramente eccellenti E non pensavo mai di raggiungere questo obiettivo Non pensavo mai, onestamente l'obiettivo che mi ero posto era un 8-9% mensile Perché così tanto? Perché comunque 8-9% è tantissimo Perché il rischio è veramente elevato Ogni volta che si va a sbagliare una trattativa, a sbagliare un cambio di quota, una variazione di quota Si perdono anche 3-4% ogni volta Quindi per, diciamo, riacquistare, riprendere quello che hai perso da una singola sconfitta Ci vogliono in media 2-3, anche 4, diciamo, partite giuste Considerando che non stiamo scommettendo, non stiamo facendo le classiche schedine Stiamo cercando di prendere quote di valore per battere il bookmaker Per cercare di trovare del valore in una quota che in realtà all'inizio del match magari non l'aveva È logico capire che un 8-9% era comunque tantissimo Un 45% mi sembra qualcosa di stellare Però basta parlare, vi lascio i numeri e niente Io penso che ci vedremo al prossimo video direttamente Eccoci qui nella tabella dove tengo scritti e aggiornati tutti i giorni, tutti i movimenti Del nostro gruppo AVC Trading Sportivo Betfair Che potete trovare qua sotto nel link in descrizione Un canale Telegram dove condividiamo completamente in modo gratuito tutte le nostre giocate Allora, siamo partiti da una cassa iniziale di 91,70 euro Che è la cassa che avevamo fatto con l'Arsenal Sheffield Siamo qui, 91,70 euro, al nostro punto di partenza E a fine ottobre siamo arrivati a 136,79 euro Un bel profitto, devo essere onesto Un gran, gran profitto Penso poco ripetibile in futuro Ma siamo andati veramente bene Come siamo andati? Beh, un inizio è stato un po' particolare Diciamo abbiamo perso parecchio qui Abbiamo perso ancora qui parecchio Qua un'altra volta Il tennis diciamo non è stato un grandissimo investimento qui soprattutto E poi col calcio siamo andati su, 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 su Non abbiamo perso più niente Quasi niente insomma Qua qualcosina ma ci ha fermato un po' dalla salita Ma siamo arrivati a 136,79 euro Con la Champions e l'Europa League No, anzi, solamente con la Champions L'Europa League oggi è il 29 Quindi ancora c'è da giocare l'Europa League Stake Stake, siamo partiti con lo stake al 4% E lo stiamo mantenendo al 4% Perché? Perché a seconda di quanta cassa iniziale abbiamo Il nostro stake aumenta di conseguenza Infatti il mio munisco della calcolatrice qua Siamo a 91 91,70 Diviso 100 Per 4 Questo è il nostro stake iniziale Ragioniamo sempre per eccesso Quindi arrotondiamo per eccesso 3,66 8 Abbiamo arrotondato a 4 Lo stake alto E mentre Con 137 euro arrotondiamo Diviso 100 Per 4 Abbiamo 5,48 5,5 Che è lo stake alto Che ci stiamo ponendo adesso Sulle ultime giocate Questo ci permetterà Di crescere esponenzialmente Teoricamente Come anche La possibilità di perdere Si alza Perché ovviamente Stiamo giocando di più Questo metodo L'ho già spiegato Nel video precedente Si chiama Anti-Martin Gala E' un metodo ponderato Che permette proprio Di utilizzare Questa strategia Per migliorare al massimo Le nostre rendite Ridurre al minimo Le nostre perdite Che percentuale abbiamo? Quindi qui abbiamo detto Valore che è di 5,5 E qua di circa 4 euro Che percentuale abbiamo fatto? Beh, ci rimuniamo Della calcolatrice Come calcolare la percentuale? Allora dobbiamo fare 136,79 Meno 91,70 E abbiamo 45,09 E lo andiamo a dividere Per la centesima parte di questo Quindi diviso 0,917 Abbiamo fatto il 49,1% Del budget iniziale Infatti se ci pensate E' proprio E' proprio il 50% Abbiamo fatto circa 45 euro Quindi abbiamo fatto Questo mese Il più 49,5% Se non mi sbaglio Giusto? No, 49,1 E' qualcosa Di incredibile Incredibile Penso che non ci sia Nessun mercato finanziario Niente di niente Che ti possa Far fare queste cifre Ovviamente qui Stiamo rischiando Tantissimo E c'è Anche utilizzando Questo martingala Stiamo rischiando Tantissimo E ci sono Delle volatilità Assurde Vedete che Ogni volta Che si esce Sconfitti Si perde Un 4% 4% qua 4% qua Se vedete Delle cifre Un po' strane Perché all'inizio Abbiamo utilizzato Uno stake Del 5% Poi l'abbiamo Aggiornato Al 4% Quindi ci stiamo Un po' Aggiustando Adesso stiamo Valutando Anche il fatto Di utilizzare Uno stake Alto Quindi Utilizzare Uno stake Alto Del 4% Uno stake Medio Del 3% E uno stake Basso Il 2% Come funzioneranno Questi? Lo stake Alto si entra Su una partita Sicura Su una partita Sicura Del risultato Pressoché Certo Che l'abbiamo Studiato In precedenza Che l'abbiamo Studiato in precedenza E sappiamo Che la partita Finirà Per certo In questo modo Lo stake Medio Non ne siamo Così tanto Sicuri Come nello Stake alto Ma comunque C'è una Buona Possibilità Che questa Partita Esca Con il risultato Che noi Abbiamo Studiato E da qui Non si scappa Come nello Stake alto Quindi giochiamo Stake alto E stiamo fissi Con quella quota Stake medio Stiamo fissi Con quella quota Stake basso Prendiamo Il 2% E aspettiamo Il rialzo Della quota Infatti Sul nostro Rupo Telegram Vedrete Vedrete spesso Aspettiamo Il rincalzo Della quota Ovvero Entriamo A 1,20 Per esempio Come abbiamo fatto Ultimamente Qua sul Dorn Zenith Abbiamo fatto Parecchio profitto Più di 3,50 euro Ma con una quota Che era bassissima All'ingresso 1,28 Mi sembra Quindi siamo entrati Con lo stake Basta 1,28 Per prenderci L'eventuale profitto Se fosse arrivato Il gol In modo rapido Abbiamo dovuto Aspettare La fine del primo Tempo Anzi Il sessantesimo Del Sessantacinquesimo Scusate Del Secondo tempo E quindi Siamo entrati Con un altro Rincalzo Di stake Basso Sempre al 2% Per portarlo così A uno stake alto Allo stesso valore Dello stake alto In modo da prendere La seconda quota Più alta Noi addirittura Qua abbiamo preso Una quota 2 Quindi abbiamo guarnato In tutto 40 centesimi Da qua Con 2 euro Per esempio E 2 euro qua Quindi 2,40 In realtà è stato Un po' di più Perché come vedete Il valore è 5,5 Quindi dovete fare Il 2% Di questa cifra Circa Quindi è leggermente Di più Ma avete capito Il concetto Spero anzi Che io L'abbia spiegato Con grazia Ebbene sì Sembrano cifre incredibili Sembrano percentuali Incredibili Perché in realtà Abbiamo sbagliato Veramente Veramente poche partite Ma I soldi Veri Non ci sono stati Perché avete visto La differenza 91,70 euro A 136,79 Quindi in realtà Non è stato Un guadagno In termini numerici Economici Esagerato Fuori dalla norma È stato Un bel guadagno In un mese Ma niente di che Io sono qui Per proporvi una cosa Vi interesserebbe Vedere qualcosa Di più Dal punto di vista Numerico Perché dal mio punto di vista Io rischierei di meno E vi porterei comunque Un percorso Che tutti noi Possiamo seguire Ma se voi volete vedere Un po' più di soldi Ditemelo qua sotto Nei commenti Io e Marco Siamo disposti Ad investirci Altri soldi Su questo progetto Ma niente Volevamo sapere la vostra Ditemelo qua sotto Nei commenti Mi raccomando Iscrivetevi al link Se volete tutte queste informazioni Completamente gratuite Per adesso E niente Ci vediamo al prossimo video Come al solito Mercoledì O venerdì Alle 14 Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti